La emozione alla Madonna di Bonaria è qui, legata al mio petto, perché io ricordo sempre che la Madonna di Bonaria è soprattutto la Madonna dei Marinarsi, e noi andiamo per il mare. Sono generazioni della famiglia onorata, legata alla Sardegna, legata a Santuario di Bonaria, e io sono depositario, l'ultimo testimone, spero che i miei figli proseguano dopo di me, di questa tradizione di cui, permettetemi un gioco di parole, sono veramente onorato, grazie a tutti.